Beh, credo che vi stia piacendo questa serie perché ho visto un bel po' di cose belle, dai Commenti abbastanza belli e mi piace che vi piaccia questa serie E beh, io direi continuare Cosa c'è di evento? Attenzione Ah, vabbè, a parte le solite donazioni Saltiamo 39,50€ Però, da quanto ho capito c'è anche un altro evento Torneo di parola catena, vediamo un pochino Tema libero Io mi ricordo che Tatsuya perdeva sempre con Espresso Diceva sempre Espresso Ecco, quanto scommettiamo che mo perde per Espresso? Si è salvato Ok E vince Yuma con la sua squadra con Hiroto e i buchi Ma credo che si può ancora giocare Credo di sì Aiato e Yuma Facciamo tre, tre volte Lasagne Vabbè, giochiamola alla Tatsuya Però che bello Tutti i due i buchi preferiti che se la giocano a parola catena Ok, se la stanno giocando pure bene Se la stanno giocando proprio bene Eccolo L'errore L'errore dell'Espresso Vince Vince Yuma anche stavolta E vediamo La terza manche come andrà Seiya contro Yuma Vediamo se Seiya farà il garantuo Latte Latte Ne ha un pochino Espresso Ecco, espresso Penso che Seiya perderà di nuovo con espresso Ci pensa Ci pensa Guarda che galantuomo Che carino Seiya Sei proprio carino Ma ora In spiaggia credo che ci sia qualcuno Ci sono Tatsuya C'è solo Tatsuya? Ah Sto un po' correndo sulla spiaggia da solo Va bene Fai quello che vuoi piccino Allora Direi di andare un po' negli appartamenti A vedere cosa succede Però anche Seiya sta fuori Chiama Vieni qua Seiya Basta Pure Eh, bravo che hai corso È passata una settimana Non ho l'ultimo incontro Eh, grazie al cavolo Non mi interessano i film Sei molto alternativo Seiya Si trova verso la fontana Ah, stava verso la fontana Ok Tatsuya si trovava sulla spiaggia Vediamo un poco C'è un problema Ed è molto che non ci si vede Ah Come miglior amico sei? Ah, come? Vorrei fare uno sternuto Ok, va bene Ti aiuto Facciamo questo sternutino Ce la faremo a farlo sternutino Ce la faremo a farlo sternutino Ho capito Non mi sembra di stare me Eh, che vuoi Quando ho una birro fra le mani Mani Finisco sempre per smontarla Chissà perché Lo facciamo tutti quanti Vero? Passiamo da Hiroto Che È passata una settimana Eh, lo so Dire quando mi arrabbio Ok Ecco qua Hiroto Imparale tutte Bravo E ho guadagnato un pochino di soldini Mi fiume mio istinto Di qualunque altra cosa Infatti vedi che fine fa Hiroto Cof Cosa vuole? Cosa vuole? Perché se Vuole giocare Va bene Giochiamo Grazie ambulanza Ti odio Ehm Ok Affinità Quindi Se conoscirebbero tutti gli abitanti dell'isola Ok Va bene Porta legame in amicizia Tolse La risposta giusta è Perché Tazuyu ce la con Seiya Punto in comune 2 Seiya Una Ad Ma qui nei miei appartamenti vicini Vero La risposta giusta è Vero Punto in comune 3 Io ho tagliato In Falso La risposta giusta è Vero Come? Ah beh Ma io pensavo il colore Peccato Vieni Non vincerò mai un gioco Ho capito Scatole Pazzolettini Grazie mille Mi servirà assolutamente Eh Poi andiamo da Aiato Che sta dormendo Vediamo cosa In sogno Cos'è questa cosa? Quanto inquietante Quanto inquietante Ok ti dono a mangiare Salmone alla mugnaia vai Tieni Tieni Aiatuccio Picchino Eh Ha un gradito pure abbastanza Ok mi fa piacere Grazie per i soldi ridati Accetta questo regalo Allora parte mia Ok quale Bambolo spray Ci sono ricordi che vorrei Ed ora Andiamo dall'ultimo Che è Yuma Che sta pensando un po' a qualcosa Un pochino così E' passata E' passata E' passata E' passata E' passata E' lo so Ho saputo Che Ioto Mi farà amicizia con te Va bene Allora andrò a vedere Fate pure amicizia Poca citato Ioto Vediamo un poco Dai Non mi sembra che abbiano fatto amicizia Ah no Sono fatto amicizia Sì Ok Perfetto Mi fa piacere Livello 3 per Yuma Addirittura Cosa gli regaliamo Canzone Facciamo un rap Ha regalato una canzone rap Vediamo un po' cosa ci crea O poi cosa ci crea Set per l'ipnosi Addirittura Vediamo un po' cosa succede Ora so Abbiamo sbloccato la nuova zona Attenzione Notizia dell'ultima Sono state accolte Sala concerti Nella sala concerti Questo luogo permetterà Chiunque voglia diventare Si può accedere alla sala Abbiamo inserito l'icona No Grazie per la cortesia Ok va bene Io direi di Magari provarla Cantante solista Yuma Nozaka per forza Vediamo un poco Come andrà questa canzone Ho capito Vediamo un po' Poi la modificherò successivamente Come balla male Yuma Dresspo senza free Volete fermarmi Non trovateci Nel mio Tritmo tanto Questa è la canzone Mi fianco Finché non siete Sam La mia canzone È orale A professione Non Nel disco Compratemi Compratemi Vero C'è un problema Cosa c'hai Si Lo so Vuoi vedere la faccia Va bene Vediamo un poco Che ne pensi Sono felice di saperlo Ma io faccio così solo per non farti del male Eh ma Vedi che hai fatto proprio schifo Vabbè Prendiamo in qualcosa di bello Beh direi di prendergli questa camera Vuoi dare un'occhiata? No grazie Non voglio Eh prendi le cura di stop Accetta questo regalo Va bene Ok Grazie per l'altalena Non ho assolutamente bisogno Grazie Che c'è Iato? Che c'è? Perché vuoi attenzioni? Vicino Va bene Giochiamo insieme Cosa giochiamo? Ok va bene Ecco Non ce l'hai fatta Andiamo bene Ancora una volta Ancora una volta Ecco Non ce l'hai fatta Eh che cavolo Che cavolo Che giochi sono Vabbè Grazie per il roto di carta igienica Che vuoi? Il mio portafoglio Lo stretto Lo ricensare Bravo Benissimo Io penso che Per questo episodio Possiamo finire qua Io penso di aver visto anche troppo Eh Soprattutto questo Vabbè Comunque Beh Continuiamo La prossima volta Magari vedrete I nuovi mi Io spero di sì Bene Ci vediamo Alla prossima da Bjorn Soprattutto questo episodio Soprattutto questo episodio Soprattutto questo episodio